5 al primo lancio 5 al primo lancio in porta a San Piaggio con Roberto Casale presentando un partiero 1 al primo lancio 1 al primo lancio 2 al primo lancio 3 al primo lancio 2 al primo lancio 3 al primo lancio 5 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 al primo lancio 6 al primo lancio 6 al primo lancio Il rosso è giallo, il porto è San Giacomo, primo lancio. Il Giotto conferma su un 6, 6 è il primo lancio per il copiare Simone. Il Giotto conferma su un 6, 6 è il primo lancio, il Giotto conferma su un 5, 6 è il primo lancio. Il Giotto conferma su un 5, 6 è il primo lancio, il Giotto conferma su un 5, 6 è il primo lancio.